Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pikatube! In questo episodio continuiamo la serie Caccia alla Rara Segreta, ma questa volta con l'espansione Spada e Scudo. Ma prima andiamo con la sigla! Prima di incominciare, vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Crazy Comics & Games, che vi aspetta a Varese in Via Medaglia d'ora 8, dove troverete prodotti Pokémon, fumetti e tanto altro ancora. Potete trovare il link dello store online in descrizione e usando Pikatube per gli acquisiti sui prodotti Pokémon avrete uno sconto del 5%. Ed è proprio da Crazy Comics & Games che mi è appena arrivato questo booster box da 36 bustine di Spada e Scudo. Come funziona questa serie? Perché nuovo del canale? In pratica, tra le varie espansioni, andremo alla caccia, appunto, di queste fuoriserie, rare segrete, goldano, tantissimi nomi. Ma la cosa più importante è che noi le troveremo. Detto questo, andiamo subito al video. Eccolo qua il nostro booster box di Spada e Scudo. Prima di incominciare, però, voglio fare un piccolo ringraziamento, perché c'è stato un mio fan, che in questo momento starà guardando il video, quindi lo ringrazio in maniera particolare, che mi ha inviato questi gadget. Che cosa troviamo al suo interno? La Pokéball, una carta, che in questo caso è un Alolan Dugtrio. Ecco qua. Voilà. Falto Olo. E poi abbiamo il dischetto. Come funziona? Mettiamo dentro. Qua e poi. Voilà. Abbiamo invece l'altro, che è la Pokéball rossa. Qui poi andranno nella collezione, quella mia, dietro, dove c'è tutto il display. In questo bustino, invece, troviamo un Magmar Olo. Ecco qua. E avrò qua il nostro Magmar Olo. E ora andiamo a provare anche questo. Facciamo la magia. Magicamente la plastica è sparita. E adesso andiamo a vedere subito. C'è una che dovrebbe andare dentro. Esattamente. Allora, qui abbiamo le nostre 36 buste. Iniziamo con le prime 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Iniziamo con queste 10 bustine con la nostra caccia alla rara, segreta. Bustine pronte. Incominciamo subito col primo pacchetto. Ecco a voi il codicciozzo. Seaking, l'inundi galar, kitmonchan, energyacqua, grukay, sobo, righorn, roselia, ferro seed. Yamper, la nostra rara è un lapras. La nostra rara è un lapras. Ne avrò già fatti 20 di questi. Secondo pacchetto. Buon arco diciozzo. Hitmonlee, vieni qui. Beat, amonormale, fuoco, sislipede, yamper, clubopus, cottony, chewtel, reverse holo, la nostra sobol, e tiful, la nostra rara. E vai col terzo pacchetto. Codicciozzo. Megaball. Hitmonchan. Seaking. Psico. Wulu. Joltik. Sarandit. Sarandit. Kloppus. Gastly. Stonejourner, la nostra reverse holo. E Raichu, la nostra rara. Vai con la prossima. Neanche una holo. Le uniche due holo sono quelle del nostro piccolo fan, che ringrazio ancora per il regalo di oggi. È stato davvero bello riceverlo. Seaking. Linnungaral. 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 Hitmonchan. Energia. Globopus. Goldin. Roselia. Gastly. Pawniard. Croagank, la nostra reverse holo. La nostra rara è un Noctawl. E vai con il prossimo. Codiciozzo. Ragazzi, mi fermo un secondo per dirvi che nella descrizione, oltre allo sponsor del video di oggi, cliccate la pagina Instagram, la pagina Facebook. Quindi andate, cliccateci, mettete mi piace. Come per il canale YouTube, andate a mettere un bel mi piace e andate ad iscrivervi. Adatto al centro Pokémon. Stamfisk di Galar. Drizzile. Acqua. Pognita di Galar. Mincino. Ciccino. Sobble. Sobble. Blipbug. Baltoi. Adatto al centro Pokémon. Reverse holo. E signori, nel primo video della caccia alla rara segreta dell'espansione scudo, apriamo una Velox Ball. Una Velox Ball. Spettacolare. Spettacolare. Piccolo fan, sei tu che ci hai portato fortuna in questo video. Mamma mia, ragazzi, che... Non ho parole, non si poteva chiedere di meglio. E andiamo con... Mi rimancano ancora 5, ha voglia di trovarne. Velox Ball, prima rara gold sbustata in questo video. Ragazzi, dopo questo ritrovamento, like, iscrizione, andate a visitare i social anche lì. Aiutatemi a far crescere il canale, mi raccomando. Codicciozzo. Pozione. Dotler. Hop, hop, hop. Energia. Munna. Roselia. Tutel. Tutel. Spero di pronunciarlo giusto questo. Blippag. Raiorn. Muzz Day, la nostra ever solo. La nostra rara è un Claydol. In questa espansione, la Velox bolceva benissimo perché è stato un ottimo ritrovamento. Però abbiamo anche quello, principalmente, che sarebbe la cosa più bella da sbustare. Lo Zacian oro. Zacian che... Vale tantino. Dotler. Hop. Sudovudo. Energia. Mawile. Ponita di Galar. Soble. Maractus. Mudbray. Il cavallo. Inteleon. Reverse holo. E la nostra rara è un Cinderace holo. Non male, non male. Dopo la Velox bol, ragazzi. Mamma mia, che bello. Ecco il codicciozzo. Velox bol. Andiamo dalla sua amica dopo. Ricerca di energia. Eldegoss. Energia. Globopus. Cottone. Tutel. È una sfida oggi, sto Tutel. Raiorn. Rooki D. B-sharp, la nostra reverse holo. La nostra rara è un Centi Scorch. Andiamo col penultimo pacchetto del video di oggi. Ecco il codicciozzo. Ragazzi, fatemi sapere, mi raccomando, non soltanto nel canale, nella sezione commenti del canale, ma anche sui social, cosa ne pensate dei miei video, cosa potrei aggiungere, cosa potrei togliere, cosa vi piace. E comunque, Seeking, addetto al centro Pokémon, Stamfisk di Galar, energia, Snom, Grukei, Shellder, Mawile, Ponita di Galar, Rapidash di Galar, reverse holo. La nostra rara è un Toxicroak holo. Bello, bello, ci piace. Andiamo con l'ultimo busta del video di oggi. Codicciozzo. 4 giuste. Hitmore. Ferro Thorn. Datti un attimo e Thorn subito. Scusate, la smetto. Recupero di energia. Energia. Soble. Maractus. Mudbrae. Ponyard. Scorbanni. Mantin. La nostra reverse holo. E l'ultima di oggi è un Musharna. Una specie di cuscino a tre colori. Ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Io non potevo chiedere di meglio, nel senso che la Velox Ball, così nel primo episodio di Spada e Scudo, della caccia alla rara segreta, è stato spettacolare. Detto questo, come sempre, lasciate un bel pollice alto e se siete nuovi del canale e non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Aiutatemi a crescere, condividete. Comunque ragazzi, vi ricordo che nella descrizione ci sono i link per la pagina Instagram e la pagina Facebook e che c'è anche il link per lo store online di Crazy Comics and Games. Detto questo ragazzi, al prossimo episodio! Ciao!